Carissimi amici sportivi, tifosi rossoneri, finalmente il Milan ha vinto il derby dopo un sacco di tempo che non lo vinceva, è stata una partita molto combattuta, bella in ogni aspetto, secondo me abbiamo sofferto un po' i primi 30 minuti ma poi con il gol di Alex si è aperta e l'episodio determinante è stato il rigore sbagliato dall'Inter che secondo me ha aperto la strada verso un successo che non potevamo sbagliare, la squadra ha fatto bene in tutte le parti, si è difesa molto bene, è stata solida e mi auguro che possiamo fare bene anche nelle prossime partite perché veramente abbiamo fatto qualcosa di straordinario, però è solo una partita e speriamo che questa partita ci serva per fare ulteriori partite future con questa intensità di gioco, con questa voglia di fare sappiamo che ancora il campionato è lungo, però siamo sulla strada giusta diciamo ora ci vuole continuità e sappiamo bene che in un campionato così di 38 partite non è facile averla però credo che la squadra abbia dimostrato carattere in tutte le parti, difesa, attacco, centro campo e soprattutto a differenza di altre partite si sono dati una grossa mano insomma è stato veramente una soddisfazione messa a battere gli altri di Milano cosiddetti che non pronuncio neanche il nome perché per noi non esistono cugini e quella volta che mi dica godo, godo, godo e sono felice e chi non salta è nero azzurro, chi non salta è nero azzurro e speriamo che si continui su questo vialico e possiamo veramente levarci qualche soddisfazione insomma abbiamo un campionato da giocare, una finale di Coppa Italia che è alla nostra portata sperando che arrivi e insomma così un abbraccio a tutti gli amici rossi o neri e forza Milan ciao ciao